Ciao a tutti, sono Leonardo Raso della LR Immobiliare e oggi vi presento un bellissimo appartamento a Roma Balduina Alta, esattamente in via Mario Montefusco, che è una strada privata adiacente a Piazza Madonna del Cenacolo. L'immobile è un appartamento di 150 metri quadri circa, di categoria A2, e posto al primo piano di una palazzina di quattro piani dotata di ascensore senza servizio di portineria ed ha una tripla esposizione. Attraverso una porta blindata accediamo all'interno dell'immobile dove troviamo un ingresso dal quale entriamo nel grande salone servito da un comodo balcone vivibile e posto a sud. Il pavimento è in parquet e l'immobile si sviluppa su un unico livello. Dal salone è possibile accedere alla grande cucina abitabile dotata di un secondo balcone di servizio con esposizione a nord e a facci nel verde. E' presente anche un comodo ripostino. Attraverso una porta accediamo alla zona notte. Percorrendo il corridoio troviamo le tre camere da letto spaziose e confortevoli e i due bagni dotati di finestra. Percorrendo il corridoio troviamo le tre camere da letto spaziose e confortevoli. Percorrendo il corso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A via Mario Montefusco di 150 metri quadri circa, dotato di doppio ingresso e ubicato al primo piano di una palazzina di quattro piani. L'immobile è dotato di aria condizionata e riscaldamento centralizzato con contabilizzatori di calore ed ha anche la caldaia per l'acqua sanitaria. La palazzina è stata edificata nel 1959 e a breve subirà una ristrutturazione integrale grazie al bonus 110% che prevede oltre all'installazione del cappotto termico sulla facciata della palazzina, anche la sostituzione degli attuali infissi dell'appartamento con infissi di ultima generazione, l'installazione di nuovi split per l'aria condizionata, di una nuova porta blindata e la sostituzione della caldaia con una nuova. Sarà anche sostituita la caldaia del riscaldamento centralizzato. L'immobile si presenta in buono stato, ha una tripla esposizione e risulta molto silenzioso. È dotato come pertinenze di una cantina e del diritto di parcheggio di un posto dato nell'auto rimessa condanniale che viene però utilizzato a rotazione a mesi alterni. La rendita cadastrale è di 1820,51 centesimi. Puoi vedere foto, video e planimetria di questo bellissimo appartamento sul nostro sito www.lrimobiliareroma.it o su tutti i nostri canali social. LR Immobiliare, la tua casa in buone mani.